Noi oggi abbiamo 32.346 positivi, con una crescita di 1.643, che è inferiore rispetto a ieri, che era 1.942. Il dato delle persone ricoverate, siamo a 10.026, quindi purtroppo abbiamo superato la fattidica soglia dei 10.000, sono 315 in più di ieri, ma ieri c'era stato un incremento di 445, quindi anche in questo caso una crescita inferiore rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva, 1.236 sono cresciute, queste di 42. Lo sforzo qui che vi abbiamo raccontato e vi raccontiamo costantemente è quello di continuare ad aprire posti letto di terapia intensiva per continuare ad offrire una speranza a chi viene colpito dal coronavirus nella maniera più virulenta, più grave. Il numero dei decessi, siamo arrivati a 4.474, con un aumento di 296, che è inferiore notevolmente rispetto a quello di ieri, che era 402, anche se purtroppo è sempre troppo grande rispetto a quello che vorremmo. I dati trovano conferme nella voce della trincea, come quella che continuo a sottolineare è la voce del pronto soccorso, la pressione sui pronto soccorso. Come ormai vi racconto da tempo, io tutti i giorni faccio una videoconferenza con tutti i direttori della SST, in cui si evidenziano le criticità, la scarsità o meno dei dispositivi di protezione individuale, i posti che vengono aperti, le carenze personali, gli arrivi, i trasferimenti e le pressioni sui PS. Il quadro che ne emerge complessivo è quello di una costanza. E quindi noi abbiamo fatto uno scalino, in questi giorni abbiamo fatto uno scalino verso il basso. E questo è un elemento che ci deve fare, un elemento positivo, un elemento che deve rafforzarci nella giustezza della strada che abbiamo scelto e anche dei risultati che questo sta producendo. Perché durante il weekend abbiamo avuto un trend che è sceso, abbiamo avuto, non solo lo dicono i numeri, perché i numeri sono tutti in riduzione rispetto a quelli di settimana scorsa, di giovedì, venerdì, da sabato, domenica, lunedì, i dati sono stati più bassi. Quindi siamo scesi e adesso ci siamo attestati su una linea più bassa. Quindi c'è stato uno scalino in giù e adesso siamo costanti. E la voce della trinciace dice esattamente questo. Si è ridotta nei giorni scorsi la pressione sul pronto soccorso e oggi è costante rispetto a ieri, ma è inferiore rispetto a venerdì, rispetto a giovedì. Quindi questo è l'elemento positivo che a questo punto possiamo dire è un dato consolidare.